Ciao, bentrovati a tutti, vediamo la situazione sul titolo statunitense Twitter, visto che oggi si parla tantissimo di tweet in base alle elezioni presidenziali, cogliamo l'occasione per vedere proprio Twitter come è posizionato graficamente, abbiamo un time frame daily, sotto abbiamo il momentum che già da prima mostrava una divergenza ribassista, poi abbiamo avuto un primo gap, ne avevamo avuto un altro prima e ancora un gap down con poi una serie di due candele bearish molto importanti. La situazione odierna, al momento sono le 19 circa mentre registro il video, sembra che possa consegnare il grafico una candela pin, una candela di stampo rialzista, quasi a segnalarci che possa esserci ancora un rialzo sul titolo e in questo caso sarà interessante andare a vedere quale livello potremmo noi selezionare per cercare un certo tipo di operatività, un certo tipo di operatività sicuramente ribassista nonostante oggi i mercati abbiano molta forza, perché? Perché il canale riassista è stato proprio rotto con un gap e l'eventuale retest andrebbe ad essere poi un segnale sicuramente interessante in ottica short, sarà da considerare, da vedere che anche il momentum possa non andare a rompere la sua trendline rialzista nel momento in cui il prezzo toccherà la trendline di base del canale perduto e in questo caso sarà interessante andare a cercare operatività al ribasso in area 44,80, 44 circa, posizionando uno stop loss sopra questo gap che di su è un segnale di debolezza importante vista l'estensione, quindi un ingresso in area 44 con uno stop loss sopra il 48 per poi cercare da questo livello una nuova gamba ribassista che vada da prima a prendere quest'area supportiva e poi in estensione anche la successiva. Il discorso del gap è importantissimo perché è una svolta proprio netta in un ambito che era rialzista, un gap del genere proprio ci dice che gli investitori per il medio periodo tendono a cambiare visione diciamo sul sul movimento del titolo. Interessante anche il time frame weekly che ci mostra la candela ribassista Beresh che va chiaramente in maniera netta a rompere il canale che avevamo disegnato sul daily e diciamo sempre che all'incirca metà di questa candela è di una candela così stesa è di suo fisiologicamente un livello di resistenza e vediamo come proprio in questo caso venga confermata questa questa idea essendoci questo livello che è stato per tre volte nelle candele weekly un livello di supporto e poi è stato rotto al ribasso e quindi ora un eventuale pullback coinciderebbe con la doppia resistenza sia quella del canale che appunto la resistenza statica. Per cui monitoriamo twitter per eventuali riteste in area 44 in ottica ribassista di breve medio periodo buon trading a tutti